La super bufala di questo periodo, ma credo ve ne siete accorti, ma io spero che ve ne siete accorti, se non ve ne siete accorti ve la dico io Bello questo effetto Elon Musk che investe sulla nuova startup e app di bitcoin per far diventare milionari tutti quanti i cittadini del mondo Quindi in pratica gira questa notizia in cui Elon Musk ha mollato tutto per investire magicamente tutti i suoi milionacci di euro sulla startup di un tale Insomma che ha un algoritmo magico che basta che tu inserisci 20 euro, 100 euro sulla sua app, fai questo versamento E automaticamente quest'app praticamente farebbe dei calcoli sulla crescita dei titoli in borsa e ti vende e compra solo quando conviene Insomma una cazzata senza precedenti, non tanto per l'app che probabilmente svilupperanno, probabilmente esiste un sistema ma che non stanno qui a venderlo a voi per farvi diventare milionari Vedi gli altri video che abbiamo fatto sulle 10 mosse per essere milionari Ma più che altro perché Elon Musk che è un tizio, tizio anche, è l'uomo che sta cercando di sconvolgere di più il panorama mondiale con Tesla, SpaceX, i viaggi spaziali a portata di tutti Sta costruendo quel tube per andare da una parte all'altra in pochissimi minuti, la macchina elettrica Insomma un sacco di cose che secondo voi lui molla e dice basta investo 500 milioni di dollari su un'app per far migliorare la vita di tutti Ma sarebbe bellissimo se l'app fosse vera ovviamente È un'altra delle tante fregature che però grazie alla velocità del web in un attimo arrivano a noi, qualcuno ci crede, qualcuno versa le quote che vengono richieste Resta fregato perché non c'è nessun algoritmo, non c'è nessuna app, non c'è niente, niente Ci sono solo i vostri soldi che vengono dati a dubbie persone, dalla dubbia onestà e dalle dubbie intenzioni Il succo di tutto questo ve stanno a fregare i soldi Bufala totale, Elon Musk sta facendo tutt'altro Se va bene quello che dice lui, ce ne andremo a visitare le stelle, lo spazio, i pianeti intorno a noi A un costo erisorio di 9,90 euro